Buongiorno a tutti, io sono Nuzio Reina, barbiere da sempre. Oggi sento la necessità di fare un intervento video su Facebook che non avrei mai voluto fare. Stiamo vivendo un periodo di paure, di irresponsabilità. Il decreto nazionale prevede la chiusura dei barbieri e dei parrucchieri perché il coronavirus è qualcosa di veramente importante e pericoloso. Quindi per la tutela della nostra famiglia, del sociale, della gente, delle persone a cui siamo a contatto, dobbiamo avere rispetto e quindi mantenere quelle che le regole prevedono sarebbe stare a casa, chiusi a casa, nella speranza che nel più breve tempo possibile tutto passa e possiamo tornare a una vita normale. Ma la cosa che mi fa veramente, che mi dispiace tanto, è sapere che molti nostri colleghi restano in modo nascosti a fare i servizi. Questo ne va l'incolumità dei soggetti, l'incolumità nostra, l'incolumità dei nostri familiari. E non ha senso quando si legge che si è la possibilità di migliorare la categoria con i barber o come i parrucchieri di livello e poi ci si riduce a offrire un servizio che servizio non è, è una comodità, è un uso che ci fa la gente nei nostri confronti. La vera cosa grave è appunto questo. Chi si sente professionista, chi si sente di poter fare un concorso e vincerlo, non ha bisogno di dimostrare le sue capacità, ma ha bisogno di dimostrare che è un professionista di testa, è un professionista che si è formato, è un professionista che può dare risposte e non ha senso il titolo, se si vince o si perde. Ma l'importante è poter svolgere con grande serietà e professionalità la sua attività. In questo caso mi pare che manchino tutti i requisiti per portare avanti questo progetto che è di miglioramento della categoria, se poi alla fine per colpa di qualcuno ci riduciamo a dover essere sollecitati con telefonate per dire che molti di nascosto fanno i servizi. Questo è grave, è gravissimo. Mi dissocio completamente da tutti coloro che fanno questo tipo di servizio. Vi assicuro che mi atterrò scrupolosamente a tutte quelle che sono le regole e i decreti che arriveranno anche per allungare il periodo di chiusura. Comunque io resto a casa per l'incolumità dei miei figli, per l'incolumità della mia famiglia e per l'incolumità della gente che frequenta. È una mancanza di rispetto nei confronti della categoria, nei confronti delle persone, nei confronti della famiglia, alzare la sala cinesca per poter fare una cosa ridicola, che può essere anche una cifra ridicola, nella speranza di poter fare uno o due clienti o qualcuno che pensa che in questo periodo può aumentare la sua clientela. Non è questo il modo di aumentare la clientela, non è questo il modo di fare concorrenza perché non è questa concorrenza che vince, ma vince solo ed esclusivamente la professionalità. Questi signori vi usano, vogliono un servizio usandovi e voi cadete nel tranello. Mi dispiace dovere dire tutto quello che ho detto oggi perché offende la categoria, offende la categoria e offende questi signori in maniera pesante, ma ho la consapevolezza e assumo tutte le responsabilità nel definirli indegni e non degni di svolgere questa attività che tanto onore e gloria ha dato a noi, a mio padre che faceva questo mestiere e a tutti coloro che prima di me e prima di noi hanno fatto questa attività. Vi prego gentilmente, un senso di responsabilità. Chiudete, andate a casa, soffrirete due o tre giorni ma poi avrete la riconoscenza di dire io ho fatto quelle che le regole prevedevano. Grazie.